Questa mattina nel parlamentino Lidenze si è svolto un consiglio straordinario sulla crisi della sanità pubblica e il grave stato di difficoltà dell'ospedale Grassi di Ostia tra taglio dei posti letto, liste di attesa di mesi e un pronto soccorso al collasso. Una situazione messa in luce, dati alla mano a partire dagli atti portati in aula dalla capogruppo della Lega Monica Picca, con il pieno sostegno tuttavia anche del presidente Mario Falconi che ha sottolineato come oggi si stia andando verso una sanità sempre più americanizzata, dove i meno abbienti non possono curarsi e dalla stessa maggioranza. Noi abbiamo già in passato portato all'attenzione della maggioranza documenti che parlavano dell'ospedale Grassi, è vero che abbiamo allargato la tematica a tutta la sanità del Lazio, ma quello che ci interessa è dare delle risposte territoriali. Il taglio dei posti letto e soprattutto del personale è qualcosa che va sul collo dei cittadini. Oggi avere personaggi e soprattutto professionisti dell'ospedale che sono venuti qui a dire veramente le criticità che noi subiamo da cittadini tutti i giorni è qualcosa di veramente molto importante. Questo territorio deve dire basta, basta perché è un'insufficienza sui posti letto che è indecente, è da terzo mondo dove tutti i cittadini vengono impacchettati dopo che sono stati studiati e trasferiti in altre strutture, che le nostre strutture più vicine minimo hanno 40 chilometri di distanza. Lei ha sottolineato la necessità di un'azione bipartisan per la situazione critica della sanità. Da circa vent'anni c'è un sottofinanziamento progressivamente crescente, c'è carenza di personale medico-infermieristico, ci sono divergenze mostruose tra regione e regione, tra zone e zone, per cui se tu hai un cancro in una certa regione forse campi qualche anno in più, tanti anni in più, oppure muori prima perché non hai chi ti assiste adeguatamente. Quindi è un pochino allo sbando la sanità, ci vuole un'inversione di tendenza forte, quindi che la politica capisca che il bene salute non è un bene negoziabile. Presenti in collegamento i vertici dell'ASL Roma 3, a partire dalla direttore generale Francesca Melito, che ha dichiarato che il numero dei posti letto del Grassi sarebbe adeguato alle esigenze del territorio. Lei è d'accordo? No, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo che il numero dei posti letto sia adeguato perché è davanti agli occhi di tutti che il numero dei posti letto non è adeguato e il personale non c'è.